un saluto e benvenuti alla fisica criptonite l'argomento di oggi è la somma vettoriale per tutti coloro che non l'hanno mai vista prima può sembrare scoraggiante ma vi prometto che non lo è faremo una somma vettoriale da capo a piedi non avete bisogno di una calcolatrice tutto ciò di cui avrete bisogno è un righello un coniometro e un foglio di carta che cos'è un vettore è semplicemente una freccia che punta nella direzione del percorso la sua lunghezza è proporzionale all'unità utilizzata useremo la lunghezza di un centimetro per un miglio all'ora questa freccia è lunga 7 centimetri pertanto corrisponde a 7 miglia orarie la barca sta viaggiando a 7 miglia all'ora in linea retta il primo vettore a freccia è lungo 7 centimetri e indica la direzione del movimento anche la marea o corrente d'acqua sta muovendosi a 7 miglia all'ora in questa direzione abbiamo posizionato un altro vettore a freccia sulla barca e adesso li sommiamo assieme copiamo e spostiamo una freccia dall'inizio dell'altra mantenendo la lunghezza e il suo angolo usando il coniometro disegnate una freccia dal basso della prima freccia verso l'alto dell'ultima questa si chiama la velocità risultante della somma vettoriale la somma vettoriale mostra la direzione e la velocità dell'imbarcazione quando due o più velocità agiscono contemporaneamente sulla barca se misuriamo la sua lunghezza è di 14 centimetri ovvero 14 miglia all'ora nella direzione della freccia facciamone un'altra la direzione della marea o flusso dell'acqua cambia si ottiene zero come misura la barca non si muove perché il movimento in avanti della stessa viene annullato dalla marea o movimento dell'acqua l'ultima la nostra barca ora sta viaggiando in questa direzione posizioniamo le frecce sulla barca come prima poi uniamo tutte le forze insieme disegniamo la freccia risultante misuriamola dovrebbe essere lunga 9,9 cm l'imbarcazione sta viaggiando a 9,9 miglia all'ora in questa direzione giusto per divertimento andiamo ad aggiungere un'altra freccia il vento soffia 4 miglia all'ora in questa direzione ripetiamo quello che abbiamo fatto prima aggiungendo ogni freccia dall'inizio alla fine senza un ordine particolare ora misuriamo la freccia risultante questo è il valore della velocità e la direzione la velocità risultante è una combinazione di tutte le velocità che si verificano in un punto immaginate di trovarvi sul tappeto mobile o tappi roulant che si muove alla velocità di un miglio all'ora se siete fermi vi muovete ad un miglio all'ora se camminate in avanti ad un miglio all'ora vi muoverete di due miglia all'ora camminando al contrario del tappeto mobile starete percorrendo zero miglia all'ora adesso dovresti avere una migliore comprensione di cos'è un vettore di come si possono sommare uno o più vettori cos'è la risultante di un vettore come due o più velocità agiscono su un punto come la nostra barca cambia la sua stessa velocità e come ogni velocità può agire l'una contro l'altra in lingua inglese kriptonite o kriptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile in italiano possiamo dire semplicemente il tallone di achille